Gentili spettatori benvenuti al palazzetto dello sport di Mazzara del Ballo vedete stanno per entrare in campo Fuzzal Mazzara e Marsala Fuzzal per il primo turno di Coppa Italia esce Novara, Novara ancora, Novara e gol! Novara! Novara quando mancano cinque minuti alla fine del primo tempo porta in vantaggio il Mazzara, Novara Giacomo D'Antoni con le mani a cercare Buscaglia, ancora Novara, la torre è gol, Novara è gol! Gol! Buscaglia! Ma Novara, cosa ha fatto Novara? Cosa ha fatto Novara? Però anticipato da Pizzo, Pizzo per Tendero, Tendero ed è arriva il gol, è il gol, è il gol del Marsala con il numero 26, Foderà su passaggio di Tendero, Foderà! Da pivot Gancitano e poi Polino che difende su Patti, Patti strappa il pallone, ancora Patti è gol, è gol, è arriva il gol, il gol del 2-2, Patti! Ha segnato Patti! Ancora pochi secondi, meno di un minuto alla fine dei minuti regolamentari, Agate, Agate, per... Agate, gol! Agate! 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 Per il gol del Mazzara, dopo uno scambio, si combatte lì, e finisce adesso! Con il Marsala non possono mai essere partite normali, sono dei derby, loro sono una bella squadra, oggi tra l'altro li ho visti meglio che sabato, hanno fatto una grandissima partita, abbiamo anche rischiato di perdere, però alla fine Agate ci ha permesso, ci ha fatto questo regalo. Il campionato, ora va avanti, traguardi! Adesso, sì, adesso c'è il Soverato in casa, siamo di nuovo in campo amico, quindi dobbiamo assolutamente fare tre punti, è un campionato molto difficile, ci sarà un altro scontro diretto tra Soverato e Marsala, quindi non possiamo perdere terreno, ormai dobbiamo cercare di lottare fino alla fine per un obiettivo ispirato alla vigilia.